Il male esiste in ogni uomo. È una parte di te ed è molto potente. Per questo ti fa paura. Se non riesco a controllarlo... Tutti dobbiamo fare i conti con il nostro lato oscuro. Si chiama diventare adulti. Ogni volta faccio lo stesso sogno e poi mi sveglio pensando che non è vero. I superheroi non esistono. Oggi si chiama diventare adulti.